italia maldiviano come stai bene 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 in maldiviano halo 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 what's her name Sì, è difficile! È difficile! Alla fine con buon giorno, buon giorno... ...baggiaveri handlele... ...baggiaveri handlele! Buon giorno in esbimento è baggiaveri handlele! ...baggiaveri handlele! ...baggiaveri handlele! Buon giorno! Buon il giorno! Buongiorno, buongiorno, faccio comandonello. E come anni sei? Nel momento, 29. Ok, e in Maldivian? Navadis. Navadis? Navadis, ok. Bravo, ci riscriviamo. E ci riguardiamo il video. Ok. 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 Ok, ok. Ok, ok. 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 Ok, so il buono nel bacino già. Ok. Buono nel mattino è il mentolo. Ok. Amorni è il mentolo. Ok. L'avorenza è il mentolo. Ok. Nerno è il regano. Ok, ecco, sono studiato. Sembra. No, 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 no. No, 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 no.